Tappa obbligatoria del Viniteli 2019, la Ceretto, con un grande vino piemontese. Che cosa ci presenti Mauro oggi? Ho pensato di parlare di Barolo, naturalmente, dato che Ceretto ha una firma del Barolo, ovviamente, e introdurre l'annata 2015, che a breve sarà anche su vino 75, un vino che sta uscendo proprio in questi giorni. Il Barolo 2015 è sinonimo di piacevolezza, di classicità, e questo è proprio un Barolo classico, perché è stata nata di grande profilo e questo vino cerchiamo di interpretarla nella maniera più classica possibile attraverso l'assemblaggio di vigne differenti, per armonizzarle fra loro, avere comunque un contesto di gradevolezza e di tradizione sin dall'inizio. Qui dentro ci sono alcuni grandi classici della Langa di Barolo, una parcella nelle Brunate, il Gabutti di Serralunga d'Alba, le Rocche di Castiglione, veramente delle grandissime vigne che insieme danno vita a questo vino. Ceretto, oltre che a Barolo, però ovviamente fa anche altri vini? Certamente. Gli amici di Vino 75 sono grandi fautori anche del Blanchet, che è un Langarneis, e poi abbiamo una collaborazione che riguarda i nostri vini di importazione, lì si va dalla Borgogna, alla Germania, all'Andalusia. Quindi se uno vuole fare un giro nel Parco Giochi di Ceretto, vada sull'e-commerce di vino75.com Ci troviamo lì!